Sei persone sono state denunciate dalla polizia per una rissa tra due nuclei familiari scoppiata nella serata di mercoledì in via salvo d'acquisto. Due equipaggi delle volanti sono intervenuti per sedare il parapiglia scatenatosi secondo una prima ricostruzione per futili motivi. Quattro uomini e due donne le persone coinvolte. Tre di loro sono rimaste ferite nel corso della colluttazione e sono state accompagnate all'ospedale Sant'Elia per ricevere le cure necessarie. Ora si attende che la procura chiuda le indagini e se gli inquirenti ravviseranno gli estremi si aprirà la fase processuale.